Lev Davido Brontein, meglio conosciuto come Lev Trotsky, fu uno dei grandi intellettuali e ideologi della rivoluzione russa, organizzatore e guida dell'Armata Rossa, il teorico della rivoluzione permanente e del primato dei Soviet sul partito, nonché il più temuto oppositore di Stalin. Aveva 26 anni ai tempi della rivoluzione russa del 1905 e ne aveva 38 quando nel 1917 l'assalto al Palazzo d'Inverno, sede ufficiale del governo russo, portò alla creazione dell'Unione Sovietica. Il 21 agosto del 1940 in Messico, dove da tre anni si trovava in esilio, Trotsky morì dopo essere stato colpito alla testa con una piccozza da Ramon Merkader, un agente segreto sovietico. Trotsky era nato nell'attuale Ucraina il 7 novembre del 1879, lo stesso anno di Stalin. A Londra, dove scappò, entrò in contatto con Lenin e il partito operaio socialdemocratico russo, nato per unificare i diversi gruppi rivoluzionari russi allora attivi. Rientrato clandestinamente a San Pietroburgo, prese parte ai primi moti antizaristi appoggiando la rivoluzione armata del 1905. Tornò a Londra, poi a Vienna, si trasferì in Svizzera, quindi in Francia e fece ritorno in Russia nel maggio del 1917. Dal 1914 la Russia combatteva nella prima guerra mondiale. Per otto mesi la Russia fu governata con crescenti tensioni da queste diverse fazioni e con il passare dei mesi le loro posizioni si fecero sempre più distanti. Ad aprile i bolscevichi ricevettero un regalo quando il governo tedesco, all'epoca ancora in guerra con la Russia, aiutò Lenin a raggiungere Pietrogrado, trasportandolo dalla Svizzera, dove si trovava in esilio, fino alla Finlandia e da lì in Russia. Sotto la guida di Trotsky e di Lenin i bolscevichi misero in atto un'offensiva propagandistica basata su un programma scritto per attrarre le masse operaie delle grandi città e i soldati dell'esercito, iniziando apertamente anche a raccogliere le forze con cui rimuovere il governo. Il 7 novembre del 1917, con l'assalto al Palazzo d'Inverno, un comitato militare rivoluzionario presieduto da Trotsky prese il potere. Iniziò una guerra civile tra i bolscevichi e le forze rimaste fedeli allo Tsar, che si erano riorganizzate alla periferia dell'impero e avevano ricevuto aiuti e finanziamenti dalle potenze occidentali. Nacque così l'Armata Rossa, che dopo cinque anni vinse la guerra civile. Nel 1923, sconfitti i bianchi, venne proclamato il nuovo Stato federale, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, con a capo Lenin, oramai malato e indebolito. Fu particolarmente duro con Stalin e lasciò intendere che Trotsky fosse il successore più adatto. Il testamento di Lenin, come vennero ribattezzate quelle lettere, fu però occultato da Stalin, che ormai controllava di fatto l'intera macchina del partito. Quando Lenin morì, Stalin impedì a Trotsky di partecipare al funerale, inviando un telegramma con una falsa data. A un anno dalla morte di Lenin, il contrasto tra Trotsky e Stalin divenne radicale. Trotsky sosteneva la tesi della rivoluzione permanente e già presente nei testi di Marx ed Engels, considerata non un fine in sé ma un anello della catena internazionale. La rivoluzione mondiale, nonostante i ripiegamenti e i riflussi temporanei, costituisce un processo permanente. Stalin intendeva invece consolidare lo Stato e il regime sovietico secondo la teoria del socialismo in un solo paese, e con il partito dalla sua parte, vinse. Nel 1925 Trotsky fu costretto a dimettersi da tutti i suoi incarichi, nel 1926 venne escluso dal Politburo, nel 1927 dal Comitato Centrale e infine dal partito. Nel 1929 venne espulso dall'URSS per ordine di Stalin e si imbarcò su una nave diretta in Turchia, ricevendo una misera cifra in denaro per i servizi resi. Seppur in esilio, Trotsky non si ritirò. Nel 1933, quando Hitler prese il potere in Germania, accusò Stalin di non aver sufficientemente appoggiato la possibilità di una rivoluzione proletaria in Germania. I trotskisti vennero a loro volta accusati di dividere le forze di sinistra e quando in Spagna iniziò la guerra civile, da parte della polizia segreta comunista cominciò l'epurazione dei seguaci di Trotsky dalle Brigate Internazionali. Nel 1938 Trotsky fondò una nuova organizzazione marxista-internazionalista, la Quarta Internazionale, come alternativa alla Terza Internazionale Stalinista, e il Tribunale di Mosca lo condannò in contumacia alla pena di morte. Nell'agosto del 1940 Ramon Mercader, un agente sovietico, venne introdotto a casa di Trotsky. Trotsky si rialzò nonostante il colpo subito, reagì all'aggressione, chiamò le guardie e poi si accasciò.